Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 39esima puntata di Mad Max Scorsa volta siamo andati avanti con il potenziamento della fortezza Ho completato le ultime due cose, c'erano questa qui e quest'altra Eccola qua, ho fatto su anche un mucchio di rottami, dato che era arrivata la tempesta Avevo preso una cassa, ho detto ma si costava 500, la cassa era 300 rottami E più ne avevo guadagnato qualcuno, perciò ho detto ma si dai lo facciamo E' arrivato il momento di iniziare qualcosa Occio adesso Bene Piano Che piano Che piano No ...d'acquire me... ...e' mi tirato a me fuori di una bongia... ...ma cosa è l' aidere dell'angelo? ...l'ho fatto! ...l'ho non matto! ...l'ho fatto! ...l'ho fatto! ...l'ho fatto! ...l'ho fatto! ...l'ho fatto! ...l'ho fatto che possiamo ottenere loro! ...sì! ...l'ho fatto fatto dal Sime Shami! ...lo uso il magnum opus e il harpoon! ...l'ho fatto! ...bene! ...facciamo quel che c'ha da fare! ...quando viveva Gastown... ...ha iniziato a rubare e accumulare parti e pezzi di ritami utili... ...e ora che è tornato in città... ...Cham vorrebbe rimettere le mani sulle sue riserve nascoste! ...individo l'entrata segreta e trova le riserve nascoste! ...off! ...blocca il potenziamento attrezzo sacro di Chan... ...ed'è quello che ci serve! ...vamos! 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 ...siamo carichi, abbiamo tutto pronto! ...dobbiamo guidare fino all'entrata... ...porca miseria! ...dove andiamo? ...dai po'! ...bene! ...diriggiamoci lì! ...sospendo la corsa perché tanto... ...non so cosa ci sarà, quanto sarà lunga questa missione... ...perto non vorrei perdere tempo a correre in macchina... ...e registrare! ...alala! ...siamo vicini... ...ma noi non dobbiamo entrare! ...dora... ...viene! ...o ci ho dato! ...bella questa entrata! Si mi è cascata insieme alla macchina C'è perché ma devo entrare io Quando chi tocchi Facciamoli questo piacere Vai sempre dritto e troverai Tranquillo starò qui Si troveremo da combattere Che posti Eh sapevo io che trovavamo Di che combattere Qui dentro Ho messo Aspettato prendo questi Bene Tutto buio Prendendo questo Eh ci sono un po' di rottami Si sa perché ma adesso mi sa che abbiamo sui finimondo passato questo angolino Ah no Si sa perché eh L'avevo pre Del visto Basta Sì è un gatto amico qua Testa gialla Uh che mossa La Si io contenti Si Si tirami anche i sassi Ah te tira mica Al cos'altro Oh ho preso alle spalle Spaccato testolina Sul tubo Voilà Guarda veri pistoni Noi Di plastica Cos'è che cercavi Roba che non sei tua Oh c'è anche un po' di storia Oh c'è adesso cosa fanno vedere Scriviti su una Cavetta Bevo Sette di otto Manca su un blocco Dei rotami Arriva Il gioco sa che è già da cento per cento Forse Finio Ah no Eh Presta Ah no Un giro a tubi Grande Praticamente Ottimo Andiamo subito A vedere Garage Guarda qua Riduce il 30% Il tempo impiegato Per la riparazione Oh yeah E questo No aspetta C'è anche un altro E questo riduca Il 70% Oh yeah Adesso voglio vedere C'è un bug Quando ripara la macchina Se fa Stessi Se ha la stessa cosa in mano Se mi hanno anche cambiato qualcosa Graficamente Non penso Però Magari L'hanno fatta bene Sì Ne altri Anche a ritorno Ancora qua Mamma mia Ho appena copato Starti Starti Dove se io saltai fora E riproducei il pedo Di Dai Cavolo Che miseria Oh Mori po' Cavolo qua Stavo un attimo Giusto Giusto D'acqua Posto Torniamo sin dietro A max speed No Alla Super questo tunnel E così abbiamo completato pure questa Troppo gesto Ora Poi ci è straverò Adesso voglio spaccare la macchina Così vedo Vestia Guarda come che si è Addirittura Bumbole Tutto quanto Però hanno cambiato Veramente un po' di roba Ragazzi Bumbole Saltrici Tutto altamente equipaggiato Piali Eh Ha fatto Ha fatto È stato fatto qualcosa Ritorniamo qui In velocità Anzi no dai Coriamo un po' Coriamo un po' Prossima puntata Ragazzi Andiamo avanti con la storia Da Praticamente Da Tip Fria Che c'è Anche lui Bisogna di una missione Faremo anche la sua E così poi Dovremmo essere a posto Per Provare ad accedere A questo mondo Adesso voglio vedere In quanto me la ripara Appena si ruvina un po' Un po' Faticoso a volte Qua Oh la C'è ancora Qualche cecchini In giro Beh Ma per adesso Li lascio là Tanto Sono solo Cosa di passaggio Non Non Un po' Sì Non È Checchini Voi Vedere Ok Un po' Sì Arrka Mi Sì No! 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 He's exposed! Hold on. No! Uno se da a escantar. Esto no lo pasa a Alicia porque... Trago bien el porte, mi... Eso te distrugía la máquina, fin que no soy contento. Bastardo! Stapa qua. Bene, ora che è rotta vediamo come la ripara. Guardio, guardio, guardio! Eh, i tiri mi sa che fanno gli stessi. Bestia, guardate ragazzi che velocità! Già finito! Veramente, veramente... Ottima cosa. Giusto per... Prendere quattro ore ottane. Ottimo ragazzi! Ci vediamo nel prossimo video. Ah, ho potenziato anche queste. Eh, nel caso servissero... Non si sa mai. Bisogna prepararsi il più possibile. Ora manca... Praticamente almeno... Scusatemi. Ovviamente dal garage non manca molto... Un po' gli armamenti, ma... Qui finalmente abbiamo completato tutto. La velocità di preparazione finalmente è a ottimi livelli. Qui abbiamo le varie carcase. Qua il colore, non me ne frega. Un po' del colore... Acceio grezzo. Più fiammante. Più luccicante. Per il resto ormai... Ecco, si potrebbe potenziare... Sì, sì. È utile. Non si sa mai. Visto che ci siamo, potenziamo tutto. Controlliamo. Qui siamo al massimo. Qui anche. Qui. No. Tutto bloccato ancora. Ecco, così ragazzi. Adesso vedremo il da farsi. Qui siamo al massimo. Ruote. Queste qui sono solo... Ah, il 25% della trazione è la sabbia. E queste fanno solo l'asfalto. Vi dobbiamo vedere perché... Forse la gara finale che penso ci sia. Una gara finale si farà magari con Scrotus. Sempre se viene fatta. Perché non lo so. Ma... Non vorrei mai servire apposta... C'è me... Scusate. Le... Le gomme per l'asfalto. Qui manca ancora un ultimo punto. Per il resto... Anche qui. Vabbè. Ma ormai manca veramente poco. Qui abbiamo finito. E queste... De calcomanie non ci servono. Anche perché non dovrebbero... Fare differenze. Vedete. Solo un fattore estetico. Buttate via solo... Alla. Bene ragazzi. Commentate. Iscrivetevi. Lasciate un like. Sto dicendo appunto che non servono... Come... Queste sono sulla sabbia. Infatti più o meno siamo in mezzo al sabbione. Però... Se servisse... L'asfalto. Che magari l'ultima gara è sull'asfalto. Allora... Una volta che l'avete acquistata. Potete cambiarle. Quando e come volete. Però per il momento sono bloccate. Ci vediamo prossima volta. Con... Un'altra missione. Della storia. Perciò... Commentate. Iscrivetevi. Lasciate un bel like. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao ciao. Ascissimo. Inveh. Ci sono di 2. sehen firelle. Oh...